5, 4, 3, 2, 1, dai, 100, destra 3 più. In su, dosso, destra 3 più, in stretto rimani a destra, per, attenzione, sinistra 2, stretto rimani a destra, stretto rimani a destra per sinistra 2, 2, sinistra 2, subito. Destra 3 più, apre, destra 3 più, apre, dai, dai, destra 3 più, apre, al cartello sinistra 3, subito, a rail, destra 3 più, a rail 3 più. per affine rail, destra 3 più destra 3 più, subito accenno sinistro destro 30 e 2 bili, destra 2 meno gira 2 meno gira per sinistra 3 gira sinistra 3 gira subito, accenno destro subito, accenno destro e subito sinistra 3 più, apre, 50 in uscita dai 50 in uscita, via destra 4 sfiorala, è questa? 100, al siapre stretto rimane a destra per sinistra 3 più, apre vai quindi rimani destro, sinistra 3 più apre vai, 50 ritarda, destra 3 più più lunga sfiorala fine destra 3 più più, lunga sfiorala fine 30, anticipa, sinistra 3 meno anticipa 3 meno per destra 3 più apre, destra 3 più apre sfiora accenno destro subito, sinistra 3 più sinistra 3 più qui eh subito accenno destro in destra 3, in accenno destro in destra 3, subito alla siapre attenzione, sinistra 2, sinistra 2 sinistra 2, 50 ci sei? Sì, vai sfiora sinistra, subito destra 2 più doppia scende e apre ripeto 2 più doppia scende e apre per sinistra 4 più per sinistra 4 più in stretto rimane a destra subito sinistra 2 al cartello 4 2 per destra 3, tieni per destra 3, tieni per sinistra 3, meno destra 3, tieni sinistra 3, meno per destra 3, lunga gira 3, lunga gira per attenzione sinistra 2, stringi sinistra 2, stringi 20 destra 3 più destra 3 più per destra 3 più più destra 3 più più apre 80 3 più più apre 80 via tutto a inizio re il sinistra 3 a inizio re il sinistra 3 per destra 3 più 40 al muro attenzione destra 2 gira 50 dopo cartello sfiora sinistro 40 sfiora sinistro per attenzione destra 3 più sfiora sinistro il cartello 5 per attenzione destra 3 più qui eh subito sfiora sinistro per al rail destra 3 più subito sinistra 3 doppia lunga chiude allo spacco del rail chiude allo spacco del rail allo spacco del rail chiude subito destra 3 più doppia sfiora la seconda per sinistra 3 più 20 sinistra 3 più per affine rail destra 3 affine rail destra 3 in attenzione sinistra 3 meno corta apre meno corta apre 50 anticipa affine rail sinistra 3 meno per destra 2 più destra 2 più bravo eh subito sinistra 2 più sinistra 2 più per destra 3 più sinistra 2 più per destra 3 più bello l'inserimento stai sinistro destra 3 più stai sinistro destra 3 meno gira sinistra accenno sinistro destro per sinistra 3 più in dosso stretto rimane a sinistra destra 3 meno meno subito sinistra 2 meno gira 2 meno gira Marco c6 2 meno gira per accenno destro accenno destro in sinistra 3 meno sconnessa apre meno sconnessa apre subito destra 3 non stringere non stringere 40 al muro attenzione sinistra 3 meno per destra 3 vai 3 meno per destra 3 vai in accenno sinistro 100 attenzione sinistra 3 meno lunga doppia chiude la prima poi apre chiude la prima poi apre subito destra 3 meno gira destra 3 meno gira in sinistra 2 più lunga apre vai 2 più lunga apre vai 100 100 via 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 2 apre vai 2 apre vai 100 via 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 sinistra 3 più stai largo diventa 3 meno stringe al muro al muro anticipa destra 3 più doppia apre vai subito sinistra 4 subito apre vai doppia sinistra 4 per sinistra 3 più inizio rail subito destra 3 più doppia sfiora la seconda per anticipa sinistra 3 sporchissima taglia la sinistra 3 anticipa questa qua sinistra 3 sporchissima subito destra 4 vai 60 alpino alpino attenzione anticipa destra 3 meno destra 3 meno per sinistra 3 meno gira taglia 3 meno giro taglia per accenno destro accenno destra accenno sinistro per sinistra 3 tieni sporca tagliala subito destra 3 più apre vai anticipa bene questa eh 40 destri a fine muro sinistra 3 più apre vai 3 più apre vai 40 al palo destra 3 doppia chiude l'ultima doppia chiude l'ultima eh per sinistra 3 tieni chiude l'ultima per sinistra 3 tieni sinistra 3 tieni qui per accenno destro per attenzione destra 3 meno corta apre a cartelli 3 meno corta apre ai cartelli per accenno destra alla casa arancio accenno destro stretto rimani sinistro per sfiora destra 4 suddosso attenzione qui è suddosso in attenzione sinistra 3 sporchissima tagliala sporchissima anticipala bene subito anticipa destra 3 vai destra 3 vai per dosso suddestra 4 vai 100 scende tra i muri sinistra 3 meno dai sinistra 3 meno in fondo l'occhio la staccata per accenno destro sinistra 3 accenno destro per sinistra 4 subito accenno destro per sinistra 3 subito destra 3 più tieni 3 più tieni per sinistra 3 più per sinistra 3 più subito accenno destra al cartello 40 bravo a rail destra 3 tieni gira ci sei? si destra 3 tieni gira per accenno sinistro vai sopra accenno sinistro vai sopra 30 anticipa destra 3 meno cort apre 30 destra 3 più destra 3 più per in sinistra 3 più doppia la seconda chiude e taglia doppia questa la seconda chiude e taglia buttala dentro a rail destra 3 più vai taglia sporca sono sporche destra 3 vai taglia sporca in stretto rimane a sinistra per accenno destro lungo chiude al palo chiude al palo per sinistra 3 più chiude sinistro e destra 3 più destra 3 più lassù destra 3 più per attenzione sinistra 3 taglia subito a rail destra 3 più lunga apre vai condosso in dosso in dosso per attenzione sinistra 3 meno attenzione sinistra 3 meno subito destra 3 per sinistra 3 più taglia sporca sinistra 3 taglia sporca questa per destra 3 più vai destra 3 più vai per attenzione destra 2 meno bruttissima questa 2 meno eh bruttissima subito al ponte sinistra 3 meno per stretto rimane a sinistra subito destra 3 meno stringe al rail per accenno sinistro in sinistra 3 più lunga vai 3 più lunga vai per attenzione alla casa sfiora addosso subito destra 3 più scende in sinistra 3 più stringe al cartello 3 più stringe al cartello subito accenno destro e subito accenno sinistro accenno sinistro destra 4 stringi anticipala bene 30 anticipa accenno sinistro subito destra 4 al cartello per sinistra 3 subito sinistra 3 attenzione sinistra 3 subito inversione destra subito inversione destra dai dai per sinistra 4 dai 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 sinistra 4 Per destra 3 più Subito Sinistra 3 più lunga Apre Al palo ritarda Sinistra 3 Arreile anticipa Destra 3 apre Arreile anticipa Destra 3 apre Per destra 3 più Destra 3 più Subito anticipa Sinistra 3 più lunga Subito Arreile Destra 3 Pestretto rimane a sinistra subito, destra 3 più, dai giù, destra 3 più, 80, al muro anticipa, sinistra 4, apre vai, sinistra 4, apre vai, 80, accenno sinistro per accenno destro, accenno sinistro per accenno destro, 10, ritarda sinistra 3, ritarda sinistra 3, subito, destra 3, lunga gira chiude, e ai sassi sfiora, ai sassi sfiora, ai sassi sfiora, in sinistra 4 sconnessa, dai, anticipa destra 3 più, dai, destra 3 più, più alla cassa, in sinistra 2, apre vai, sinistra 2, apre vai, 100, sinistra 2, apre vai, 100, al muro, destra 3 più, destra 3, al muro, dai, destra 3 più, subito, anticipa sinistra 3 più, sinistra 3 più, Per occhio sconnesso la staccata destra 2, occhio sconnesso la staccata, in accenno destro subito, accenno sinistro taglia, accenno destro, accenno sinistro taglia, subito destra 3 più, apre vanti, apre destra 3 più, apre 20 dai, stretto rimane a sinistra, destra 3 più più, doppia, doppia questa, 3 più più doppia, subito al muro, sinistra 2 più, subito al muro, sinistra 2 più. Per accenno destro, dai, sinistra 2, per accenno destro, subito destra 3 più apre, vai, è finita.